Benvenuti nel nascondino colori con tutta la gang! Ma dai, laga, let's go! Piccolo problema ragazzi, sono appena partiti 8 minuti di timer perché non possiamo utilizzare armi Ma ci dovremo nascondere nel nostro colore, tipo io son blu, dovrò andare nell'acqua Vabbè, ma le posso prendere almeno le armi? Cioè, non le uso, però le hai in mano Ma no, 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 puoi solamente prendere armi per scappare, basta, zero armi totali E scusa, se... Ma fatemi capire una cosa Giunta al 100% Vabbè, se uno mi viene a pushare con un pompa straincazzato, io cosa devo fare? Stare lì a guardarlo e salutarlo? Ebbè, più o meno, cioè, purtroppo... Ciao, bel ragazzone, vieni qua a spum... No, no, io non faccio proprio così, però vabbè Raga, il punto è che il mio colore è rosa E cos'è che c'è di rosa nella mappa? Qualcuno me lo spiega? Ecco, questo è un grandissimo problema, refa idee? Eeeh... Boh, c'è di rosa nella mappa, raga Raga, fermi tutti, c'ho la grande idea Mi vado a mettere su un albero Eeeh E adesso sì, e allora sì C'è una piccola cosa che vi voglio dire nel frattempo Io, ovvero, nell'acqua, raga, non sono nascosto per nulla, raga Non riesco a nascondermi nell'acqua Devo nuotare in continuazione e fa pure schifo Comunque, nel frattempo, io vi ricordo Codice Ferro, sempre per sempre, nel negozio Getty Per il vero massimo supporto E mi raccomando, like e iscrizione al canale Bisognava già nascondersi? Eeeh, penso proprio di sì, perché scusa? Perché io sto picconando e lutando tutto quello che trovo intorno a me Beh, guarda, onestamente lo sto facendo pure io, raga Ho trovato, per forza, perfetto Voglio dire, ho trovato il razzariette, raga Ottio, bravo Ferro Yuhuuu Ma come il razzariette? Cosa ti serve esattamente? Per scappare basta? Ma tu non hai proprio capito un corno, po Tu non hai capito un corno Se devi prendere solamente le cose per scappare Quando scatta il timer di otto minuti Porca di quella mannaggia, di quella vacca Potrei prendere anche l'arma e potremmo provare a vincere la partita Intanto le vacche le lasci fuori dal discorso Testa di Vega Vabbè, porca la vacca sempre Raga, sono Sombrio Alberello Guardatemi Nessuno mi vede Let's go Vado a vincere così, giuro Raga, sapete che mi sono reso conto in questo momento Che c'è anche un altro piccolo problema Ovvero che potremmo prendere le armi quando finiscono gli otto minuti Ma siamo totalmente in zone diverse della mappa, raga Ritrovarci sarà impossibile Grazie al cacchio, fratello Ci hai fatto andare rapidamente ai quattro angoli separati Raga, ho trovato un posto per nascondermi ancora migliore Ovvero in un cassetto di immondizia Blu, ovviamente Come il mio colore Oh, finalmente hai trovato il tuo posto, fra Le immondizia, la monnezza Allora, non è vero questa cosa Io vengo da Marte come se sono un extraterrestre Ma in tutto questo la cosa è divertente Che ci sono i sacchetti neri Come appunto sono vestito io Come i vetri E, eh Blu Come i vetri, i vetri neri Se giriamo nel retro Voi sareste da uccidere Raga, è importante questa sfida Siamo contro 100 nemici In questo momento 40 Perché in tre ci siamo noi E cercate di fare i seri per favore Voglio vincerla E soprattutto voglio anche vincere la partita, ecco Ma Ferro, ma sai cosa non hai ancora detto? Sentiamo Che codici dobbiamo usare per vincere questa partita, raga Ditelo tutti quanti insieme No, l'ho già detto prima Ma il codice ferro, il codice ferro, il codice ferro Inseritelo nei negozi oggetti per il vero massimo supporto Ma ragazzi, ma quanto diamine manca? Porca vacca e porco pure refe Ah no, sono la stessa cosa Comunque Mancano tre minuti circa, raga Io nel frattempo mi sto muovendo e sto pescando Così che almeno prendo un po' di cure vita Anche se di armi non ne ho ancora La canna pesca non è un'arma, raga Io raga vedo la condivisione di Pua Pua ha solo armi nell'inventario comunque Pua Pua Aspetta, raga sto laggando Vi rispondo dopo Devi toglierle adesso, non vale questa cosa Ma Pua comunque, raga, veramente non è mai un'inventario Ma si può non ascolta mai le challenge Lui fa il caglio che vuole In tutti i video, lui fa quello che vuole, capito? È così che fa lui Senti, senti Comunque Voi siete shieldati Io no Quindi un qualcosa me lo posso tenere, ok? Quella No, perché le shield li puoi prendere Le armi no È la challenge, Pua Sei un rincoglionito Io direi di non censurarla questa Perché è meritata Ah, ah, ah Troppe persone Troppe persone No, che cos'è, raga Torretta, raga Ma come persone? Scappa Hai il cosi sotto, scappa con i cosi, Pua No, 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 no Sono tirchio, non lo utilizzo Dai, Pua, devi Ma Pua, ma devi Ma Pua, devi lì sotto Ma no Non era una persona Non era una persona Era una torretta Se mi odio Un altro coso che per andare Ma che sta succedendo, raga Ma secondo me, Pua, no La torretta Chi è che l'ha usata? Cioè, Gesù è sceso Ha messo una torretta lì No, un giocatore Però se non è qua Meglio, no? Raga, la torretta la posso utilizzare, è vero? Allora, raga Io non so cosa stia succedendo Fatto sta Era fuori safe, il mio What the fuck? Vado in un cespuglio arancio Morto Raga, ma mi hanno cecchinato in testa No, raga Ma tutto Non ti preoccupare, Andri Sta arrivando la mucca Sopra la moto La moto mucca La moto vacca Ma 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 Dovete correre veloce Allora, ci sta solo un player che ha il cecchino, raga Ma adesso lo possiamo utilizzare e studiare Ah, no, niente Sì, potete usare qualsiasi tipo di arma, raga Per favore, però aiutate È solo un pompa Non posso usare qualsiasi tipo di arma È solo un pompa Eh, esatto Ma che poi, raga, ce ne sono tre che mi stanno continuando a cichinare Ma non c'è a voi Vai, Pou, è il momento Prendi tutte le cose più belle del mondo Nel frattempo c'ho 150 di ping Ma come è possibile Vado a buttare, Andrea Via Sì Vero, è vero Possiamo sfruttare sta cosa, raga Sendo che siete in posti differenti Uno può ne buttare L'altro può Vabbè, in poche parole È appena scaduto il timer di 8 minuti, raga Quindi da adesso si possono utilizzare le armi Riuniamoci e vinciamo questa cavolo di challenge impossibile Ma quanto farebbe ridere se proprio qua ci fosse gente? Ok, farebbe Non dirlo, ragazzi, non ditelo Esatto Non ditelo neanche per scherzo Che io non ci voglio morire Oh, sto sudando Pure dal culo Ah, raga mi stanno Guardatemi Ragazzi, aiuto Aiuto Scappa Non dire aiuto Scappa Sono sopra di me Sono sopra di me Via, via, via Pouaz Via, via Pouaz In tutto questo Refe c'hai una Avresti una chiave per favore Oh, no Sono pieno Davvero? Sai perché sono pieno? Perché qualcuno mi ha fatto lutare per bene qua oggi Stra bene mi ha fatto lutare Non è neanche una Mi immagino Vabbè, sentire la sfida Mi dispiace dirtelo signor Refe Non so come faccio essere vivo Non lo so anch'io Ma c'è un dinosauro da me Che voleva mangiarmi la casa Ahia Vieni qua dinosauro Ok, io signor Refe L'avviso che sono messo abbastanza bene Per poter fightare dei player Mi fa stra piacere Sta tanto piacere Tu invece? Io ho un bel pompa Che farà tra i diranno probabilmente E soprattutto abbiamo la save dietro il sedere Quindi che cosa ne dici? Corri, quindi corri Con il razzo Ariete Allora ragazzi Se volete Non vi voglio troppo disturbare Potete venire vicino a me Che io sono completamente da solo Sono sovrastato di team Perché ci sono a destra e manca Se volete venire Cosa ne pensi di venire tu invece di noi? Sto cercando di venire io Ma sai come siete un po' lontani Rega bella notizia Trovate le chiavi E quindi di conseguenza Un bello spas Rega bella notizia Davanti a noi c'è gente Dai andiamola pushare Andiamo a pusharla È il momento È il momento signori No Pua piano per favore Che stai andando da so Ok siete in due voi Siamo in due Gli spacchiamo il culo Ok siete in due Ma se Pua non togli quel ping Le persone che pushano diventerà una Ve lo giuro Mi turbano i ping Toglieteli Oh tranquilli Tranquilli ragazzi L'ho tolti Era solo per avvisare Sopra Come sopra Ragazzi c'è una skin rosa C'è una skin rosa Mi ha rubato la skin Sopra del coniglio Gli ho fatto 69 Ma dove è il coniglio Coniglio una delle mie skin preferite Il coniglio 25 di nuovo Aspetta Ho una bella idea Vai 26 No way Hanno le cose Ragazzi siete pronti Boom 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 620 Ho distrutto Ho morto uno Bravo Vai Repe Eh no Ho giusto nessuno 103 E poi l'involta Aspetta E poi l'involta Stanno tutti qua sopra Ragazzi Li faccio vedere pure Come a me a Let's go 50 preso Cosa è successo? Dove sono? Dove sono? Dove sono raga Quella ma è coniglio potentissimo C'è un lutto della vita Oh dietro 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 Altro team Altro team Altro team dietro No 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 Che brutta situazione è questa Sono da te Refe Eh sì sì No no sono da me raga I player di adesso Purtroppo Ferro Ci abbiamo un team dietro Dobbiamo stare veramente No raga mannaggia Sto arrivando Sto arrivando Dai ma raga Mi avete lasciato solo Tutta la partita Ma dove mi lanci? Oddio È morto questo Idiota Bro l'ho ucciso con sta giocata qua assurda Sono troppo forte Ok molto bene Bravo la tua giocata E io sono morto di nuovo raga Dovresti un attimo starmi vicino Ok uno distrutto? Ok Allora tranquillo Ferro Adesso ti vendichiamo Let's go Let's go Rebuta in due Rebuta in due C'è va a te Devi rebuttare in due Pua Rebuta Rebuta All da All da All da Rebuttato Oddio Rebuttato Oddio raga vi giuro Sto stringendo il culo Sto stringendo il culo No raga mi chiedono in volo Io mi impazzisco E mi metto anche a piangere Posso mettermi a piangere Posso mettermi a piangere No way Avevamo fatto la giocata No raga mi metto a piangere Questo flame Questo flame Veramente il fuoco Io te lo metto Non giuro raga Sto impazzendo Refe aspetta Vieni qua Refe Allora il punto Che vuoi andare a prendere La scheda di ferro Ma sono esattamente Davanti a noi Sono quelli di prima Che abbiamo ucciso Via 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 Wey ma raga Ma sti qua che mirano Ma l'ha serato Vai usa l'impulso Pua Eh ho capito Ma Pua io sono nascosto E sono anche fuori safe Entra È normale che non potevo far niente Ma guarda questi che ballano pure Ma che sto vedendo Da dietro 120 Ok raga Ho ucciso uno Let's go Let's go Raga questo è Un di un ricordo Che ci stava distruggendo Oh ci stavi mongranando a noi E come E c'è uno fuori Cioè ok Ok 70 ancora uno Mamma mia questi sono a mangiare raga eh Stando a me da me due raga Uno un altro Ok mi ha preso uno Mannaggia lui 33 un altro Ragazzi siamo Mamma mia questi Questi veramente cosa mi fanno Dopo la partita di prima che abbiamo perso Mi mangiano Let's go Mamma mia quanto godo ragazzi Certe godure sono proprio immense Altro che fare Bumba bunga bunga Io odio Cioè io adoro Uccidere le persone su Fortnite Ma stai dicendo Che stai dicendo Stai lasciando quello che stai dicendo Raga Nuova partita o meglio solo endgame Perché dobbiamo vincere Non possiamo concludere un video perdendo Soprattutto una challenge di quel cavolo di tipo Ehi ma chi è il tipo del cavolo che stai dicendo? Eh sai che non lo so anch'io chi sarebbe Nel frattempo ragazzi Commentate con dei prossimi video Che vorreste vedere con tutta la gang Raga E ovviamente like e sezione Cosa ci farò sempre per sempre Nel negozio di etti Ma ora Basta parlare Direzione vittoria Aia porco Signori Gente davanti Mi hanno appena distrutto Completamente Sì me ne sono reso conto E soprattutto raga Questo qua è un altro team Molto molto forte Allora Nel frattempo che loro Fanno il giro Oppure io gli faccio il giro a loro Li prendo dietro come abbiamo fatto il team Di prima e gli diamo una bella sistemata Anche a questi Allora intanto Quello lì deve stare giù dalle scale Non può salire Sto qua Dobbiamo salire Andiamo sull'isola Andiamo sull'isola guys Ok spero non mi lasano Perfetto Sono sull'isola raga Ora dobbiamo tenere like E non morire raga Raga per favore muovetevi Sono sotto da solo Arrivano Veloce Vieni Sono sull'isola raga Sono sull'isola Sì sono sull'isola Aspetta aspetta Perro guarda cosa faccio Perro stai attento Perro stai attento Che fai? Ok no niente Aia Mi hanno distrutto Hanno like loro Hanno like loro D'abbè 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 distrutto uno D'abbè raga ma sono morto quasi Ok fermo L'ho fatto cadere uno No no non ha preso nulla Ha preso undici D'annula caduta Ma com'è possibile Ragazzo 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 Un HP Però sto giocando Di aprire l'asta Sto alzando l'asta guys No 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 Questi sono fortissimi Ragazzo Sono delle cavole di bestie Oh mio dio Io sto pure laggando Ok raga raga Uno gli ho fatto 79 Purtroppo Anch'io 79 E sempre uno Niente Sto qua Vabbè ma questo qua Mi giuro raga Sto impazzendo Sono fortissimi Sono dei mostri Ragazzo Ragazzo Venite sotto Ragazzo Venite sotto C'è l'asta Vai sono sotto Oddio Oddio Raga No c'è il box Da me da me Raga Raga Ucciso Sto arrivando Sto arrivando Raga per favore Spammate Spammate raga Ok ok E ti becchia anche la L Ha ha Ucciso pure io raga Un po' di odio Un ferro Ragazzi Allora qua Qua intanto c'è tutto Ma l'altro tipo Dov'è Che ce l'avevo sotto io Sotto da me Sotto da me Sotto da me Ok piano Per favore piano raga Che non voglio morire 155 155 Non cadere Porto Let's go Raga Chi sono i più forti Raga guardatemi un secondo Raga guardatemi un secondo Per favore Stai ballando Let's go Raga si vola Pushare questi Occhio Jump Basta Se no questi ci uccidono Niente Oddio Jump Basta Vado dietro l'albero Suka Anch'io Ok raga Stanno qua 22 a 1 Quanto godo Quanto godo Il pesce secco Pompato Let's go Arrivo Ragazzi Bravo vai boa 44 un altro Perfetto 51 Morto 1 Morto 1 Morto il pesce secco Quello che jumpa a 60 Aia ragazzi Mi ha distrutto Mi ha distrutto però Ho ucciso il tipo Ma mi ha distrutto Don't worry brothers Ok ero entrato nel box con lui Non ci credo Ok un altro Un altro Un altro Un di vita Let's go Boom baby raga Siamo troppo forti Siamo troppo Più forti raga L L Si balla Io faccio addirittura Il giocatore di basket L'albero che gioca pure basket Let's go Comunque raga Rift si va a pushare L'ultimo team raga Siamo contro l'ultimo team Abbiamo pure fatto tipo 16 kill E vinceremo sta challenge Finalmente Let's go Cheat è sempre noi che moriamo Tra cinque secondi Oh porca paletta raga Allora c'è un piccolo problemino Gente da ferro Vai 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 Esatto Proprio capito bene Allora Adesso pensano tipo di fare i fighetti No Ora abbiamo distrutto uno Ragazzo scarsi a vinciamo Porca paletta che sfiga Ok Sentite persone raga Laserato uno L'ho craccato Craccato uno raga Hanno poca vita Questi sono da mangiare 120 e un altro Questo perfetto Ma comunque mi sta rubando Tutte le kill Ma non è vero L'importante L'importante L'ultimo Ma ce l'avevo nel box Mi stavo curando insieme Allora Ok fermi Che c'è L'ho lasciato uno raga Boom E già ti ha ucciso Let's go Chi sono i più forti Ma chi sono i più forti Dillo Dillo Chi sono i più forti Spaccamo il culo Spaccamo il culo Spaccamo il culo